Un polifemo dedicato alla settima edizione appunto della mostra di arte presepiale di Statte. Beh, Statte è davvero stata protagonista in questo periodo, compreso tra fine novembre e tutto dicembre, ma arriveremo fino a gennaio inoltrato, proprio perché abbiamo seguito già le varie esposizioni di manufatti presepiali statesi in quel di Napoli, in quel di Roma, a Napoli per appunto la mostra di arte presepiale, a Roma nell'ambito della mostra dei cento presepi più belli del mondo, quindi con il Vaticano, ed era giusto anche venire qui a Statte, da dove parte l'arte presepiale, per questa settima edizione. Ho al mio fianco il presidente dell'Associazione Vivere Betlemme, Sergio Moscaggiuri, e con lui faremo un po' il tour di queste postazioni e poi avremo anche dei contributi che abbiamo già realizzato al momento dell'inaugurazione della mostra. E allora, Sergio Moscaggiuri, intanto brevemente un po' i caratteri di questa edizione e poi siamo qui per commentare i classici diorama. Allora, siamo giunti appunto alla settima edizione, Luigi, come tu hai già detto, ed è sempre più impegnativo ed è sempre più prestigioso rappresentare questa associazione che si sta facendo conoscere anche nel resto d'Italia. Nel mondo, non voglio... No, è la verità, perché quando parliamo di mostra dei 130 circa presepi più belli del mondo che provenivano dall'Asia, dall'Africa, dal Sud America, e c'era anche quello di Statte, è una dimensione internazionale. Non è piagerie, è la verità sacrosanta. Sì, è vero, questo è vero. Ancora non possiamo crederci. Anzi, voglio dire, io ho lanciato la sfida a tutti gli altri soci per l'anno prossimo, magari riprovarci l'anno prossimo. Ma in ogni caso parliamo della mostra di Statte, che quest'anno si snoda su cinque locali, conserva la sua natura itinerante, nel senso che non è posta in un unico grande spazio, ma è in cinque locali, tutti situati all'interno del centro storico di Statte. E proprio nasce itinerante allo scopo di far conoscere il centro storico di Statte anche agli Stattesi. Dunque quest'anno i locali... Qui siamo in questa prima postazione, il nostro operatore sta appunto riprendendo la caratteristica dei presepi, i diorami. Allora, i diorami, ripeto, si tratta di presepi che costruiti in tre dimensioni, nel senso che hanno anche la profondità, la profondità in prospettiva. E pertanto necessitano di un unico punto di vista, proprio perché lo spettatore possa godere della prospettiva, il presepi e il diorama viene realizzato in maniera tale che ci sia un unico punto di vista, dal quale appunto, come dicevo, si può vedere la natività in primo piano fino ad arrivare poi all'orizzonte. Infatti il Papa, era esposto un diorama a Roma, proprio Papa Francesco, vi domandava, ma non c'è uno specchio forse, proprio perché era colpito, quasi ingannato da questo senso di profondità, che sembrava essere uno specchio. Sì, è vero. Il Papa ha chiesto, bello questo gioco di specchi, sono tutti specchi, no, no, santità, gli abbiamo detto, non sono specchi, non sono dipinti, è tutto realizzato a mano. Anche perché la caratteristica dei nostri esempi è quella appunto di realizzare a mano ogni singolo elemento. Ecco, mi colpisce in uno dei punti di esposizione, Germoglio di Speranza, è un presepe molto significativo realizzato dai ragazzi del Centro Aperto Polivalente per minori della cooperativa sociale Il Sole di Statte, una grotta e le case dei tamburi e l'Ilva, una problematica terribilmente d'attualità in questi giorni. La loro sensibilità, un'opera molto semplice però che ha una connotazione sociale fortissima. Sì, noi a Statte viviamo questo problema, lo viviamo quotidianamente, sia dal punto di vista occupazionale perché tante persone, tanti stattesi lavorano in Ilva ed anche dal punto di vista... Mi corrego, sono tamburi ma anche Statte perché ricordiamo Statte è forse colpita direttamente tanto quanto Taranto. Certo, e appunto dicevo anche dal punto di vista dell'inquinamento noi a Statte sentiamo tanto la presenza dell'Ilva. I ragazzi in questo caso hanno voluto rappresentare la natività, hanno voluto porre la natività all'interno del centro siderurgico tra i più grandi del mondo, proprio probabilmente a significare una speranza di rinascita del posto ma anche del centro siderurgico. Altra postazione per la mostra dei presepi qui a Statte è che siamo nella sede della Società di Mutuo Soccorso. Ci ha raggiunti il sindaco di Statte, Franco Andrioli. È stato un Natale che ha visto Statte protagonista, lo dicevo poc'anzi, Napoli, Roma. E qui è molto significativo perché abbiamo i presepi qui presenti, quasi tutti, che provengono da Napoli. E quindi in questa logica di scambio culturale, di interscambio tra i presepi di Napoli e quelli di Statte, Napoli ha voluto omaggiare la comunità statese appunto offrendo la presenza di questi presepi. Sindaco, un motivo di orgoglio. Sicuramente, io non posso che ringraziare i nostri amici dell'Associazione Vivere Betlemme che stanno dando lustro alla nostra cittadina. L'anno scorso siamo stati a Matera, quest'anno a Napoli, a Roma. Stanno facendo uno scambio culturale con Napoli. Vi dico una cosa bellissima, Statte si sta facendo conoscere anche per questo, per i presepi, gli artisti di Statte stanno dando lustro di quando meglio possa esistere. Gli imprenditori di Statte si stanno muovendo, la società a mutuo soccorso sta dando lustro, mettendo a disposizione i propri locali. E questo non può che farmi piacere. Una cittadina sveglia che si muove, i ragazzi che crescono a vista d'occhio, le richieste arrivano dal di là da tutte le parti d'Italia. Noi siamo orgogliosi di trasferire le nostre maestranze in tutta Italia. Dico quest'anno un presepe ricco. Io sono stato a Roma, orgoglio per me, per la mia cittadinanza, per tutta l'amministrazione, quando uno sta al Papa con su e se. Ti dico è una cosa, è un'emozione, è un'emozione, io la vorrei ripetere, ma dico quelle sono cose che capitano poche volte nella vita. Io sono stato uno di quelli fortunati. E dico la cosa più bella è quando si ferma il Papa a chiedere spiegazioni del proprio presepe. Vuol dire che c'è un'attrattività, un'attrazione. Là parliamo di 130, 120 presepi di tutto il mondo, non a livello italiano, a livello europeo. Presepi di tutto il mondo. E quindi una cosa bellissima, un'emozione grandissima. Ecco, sindaco, questa realtà che Vivere Betlemme sta portando avanti certamente produce un'immagine davvero bella di state. In questo modo si fa marketing territoriale, si promuove il territorio. D'altronde, quando parliamo di turismo religioso, di questo stiamo parlando. Quindi certamente una base, una matrice religiosa, che ovviamente però si addentella, diciamo, con l'artigianato, con quindi le maestranze locali, con il fare turismo, con il promuovere il territorio. Ci stiamo facendo conoscere in provincia, in tutta Italia. Arrivano persone al di fuori della provincia di Tarno e questo non può che farci orgoglio. Altri presepi sono esposti anche a Martina Franca. Dico, state, posso dirlo con orgoglio, la città dei presepi artistici. Sono dei ragazzi veramente meravigliosi che danno lezione. Loro stanno tentando di aprire proprio una scuola di presepisti. E noi stiamo invogliando i ragazzi delle scuole a partire. Il supporto dell'amministrazione. Il supporto dell'amministrazione sarà totale perché è una tradizione bellissima che dal nulla, come dire, si creano questi presepi e farli conoscere in tutto il mondo. Rieccoci con Sergio Moscaggiuri. E allora commentiamo un po' questi manufatti, questi presepi, che da Napoli, voi come Associazione Vivere Betlemme, siete stati e siete ben lieti di ospitare. E' un numero ben nutrito di manufatti. Sì, abbiamo sette manufatti dai Napoli, di diverso genere peraltro, perché il presepe napoletano si distingue per varie tipologie, ma anche per i periodi storici. Ci sta il presepe napoletano del 700, quello dell'800 e quello del 600. Qui abbiamo questi primi tre presepi. Questi primi tre presepi, il primo a sinistra rappresenta il presepe napoletano dell'800 e subito dopo abbiamo due scogli napoletani che rappresentano dei piccoli dettagli, dei piccoli particolari. Nel primo c'è una fontana e subito alle spalle l'ingresso probabilmente di un tempio, che rappresenta l'ingresso di un tempio, la natività posta immediatamente a fianco. E subito dopo un altro scoglio che rappresenta la stessa situazione, cioè la natività posta al centro dell'ingresso di un tempio. Ecco, procedendo così troviamo altri manufatti. Sì, sono molto semplici. Molto semplici, che poi è una delle caratteristiche degli scogli napoletani. Sono molto semplici e c'è parecchia lavorazione sui dettagli. Quindi non necessariamente il presepe napoletano è quello del 700, pieno di personaggi come il prossimo che andremo a vedere, ma ci sono appunto gli scogli che sono semplici e la concentrazione dell'artista è appunto concentrata e focalizzata sui dettagli. Ecco, Sergio Moscaggiuri, mi colpisce chiunque colpito dal carattere maestoso di questa opera presepiale. Ebbene, sì, questo è uno del classico presepe del 700 appunto, che è sovrappopolato di personaggi realizzati tutti completamente a mano e le cui espressioni colpiscono proprio per le loro espressioni, per l'espressività del stato. Comunque anche quello con le botti, penso a qualcuno un po' più avvinazzato. Quindi voglio dire proprio il carattere popolare, la quotidianità. Luigi, ognuno di questi personaggi è posto in una posizione, ognuno di questi personaggi ha un ruolo e un nome particolare, che sicuramente se avremo modo di intervistare, di approfondire, saremo in grado di spiegare i dettagli. Già ci danno l'immagine, la dimensione della quotidianità, quello che ogni giorno si viveva. Certo, è proprio questo. Proseguendo, vi sono altre opere, non di provenienza napoletana, di chi si tratta? È un amico dell'associazione, è Giacinto Gentile, un artista di Massafra. Nel primo che vediamo è l'annunciazione alla Madonna e subito dopo a seguire abbiamo una bacheca all'interno della quale Giacinto ha realizzato dei manufatti, il verde praticamente, quindi alberi di vario tipo. Dei bonsai. Sì, dei bonsai realizzati secondo quelli che sono i suoi canoni di bravura, che peraltro gira l'Italia insegnandone la realizzazione. Bene, e allora procediamo in quest'ordine. Abbiamo realizzato davvero, ci siamo impegnati tanto per questi eventi di estate, in vari momenti abbiamo appunto così seguito le manifestazioni, le inaugurazioni. Ora ci spostiamo, facciamo un passo indietro e ascolteremo i contributi filmati, le registrazioni delle interviste fatte con Deborah Artuso, assessore alla cultura del Comune di State, e poi con Angelo Miccoli, assessore all'ambiente del Comune di State. Quindi partiamo con questi contributi che, ricordiamo, abbiamo realizzato in occasione dell'inaugurazione della settima mostra di arte presepiale, allorquando c'era questo bel panorama, questo scenario suggestivo, accattivante, dei vari mercatini, delle varie bancarelle. Procediamo con i contributi filmati. Deborah Artuso, assessore alla cultura del Comune di State. Nel momento dell'inaugurazione, una settima edizione che rappresenta sempre una state sempre più capitale dei presepi. Beh, questa settima edizione la apriamo con una somma soddisfazione. Già l'anno scorso siamo riusciti a portare i nostri presepi a Matera, capitale della cultura, e quest'anno abbiamo ottenuto risultati, non dico più prestigiosi, ma... Decisamente. Ecco, importanti, diciamo così. Siamo riusciti a ottenere un gemellaggio con la città di Napoli, che sappiamo tutti essere la capitale mondiale dell'arte del presepe, eppure l'amministrazione comunale di Napoli ha accolto le nostre opere con enorme ammirazione, e cosa che non avremmo mai sperato, neanche nei nostri sogni più... Per non parlare poi della visita dal Papa. E appunto, cosa che non avremmo mai sperato, neanche nelle nostre più grandissime ambizioni, è quello di essere arrivati al Vaticano e al cospetto, peraltro, di Papa Francesco, che pare, io purtroppo ero al lavoro quel giorno e non sono potuta andare, ma pare si sia soffermato più di qualche minuto. Le tecniche di realizzazione, pensava addirittura che quella profondità fosse prodotta da uno specchio. Esatto, perché noi promuoviamo un presepe particolare, il diorama, che si sviluppa in profondità, quindi da un senso prospettico molto esteso, e quindi anche Papa Francesco ha avuto da osservare sulla nostra, sulla abilità dei nostri artisti stattesi. Quindi apriamo l'inaugurazione con questa soddisfazione, di riuscire piano piano a far capire che a Statte c'è effettivamente un talento che meriterebbe la denominazione di città dei presepi artistici. Una mostra proprio qui, accentrata, diciamo, nel cuore, nel centro di Statte, Largo Lepanto e altre sedi che ospitano i presepi, appunto, limitrofe. Sì, questa è una tradizione che non vogliamo perdere, perché questo è il cuore di Statte. Molte delle attività natalizie le abbiamo spostate nella biopiazza, che è effettivamente l'agorà del paese di Statte, però vogliamo che anche questo zoccolo duro della nostra storia venga ad essere protagonista, e non c'è modo migliore che sposare la storicità della nostra città con la tradizione del presepe. Quindi non è un caso che siamo qui di fronte alla Chiesa Madre, tra poco assisteremo anche ad un concerto natalizio, insomma, cerchiamo di celebrare in questa maniera lo spirito del Natale. Caratteristici mercatini? Sì, quest'anno peraltro siamo stati, ecco, è un'annata fortunata, siamo stati metà in vita da molti espositori e questo ha portato a Statte tanta gente e devo dire che se non è questo l'obiettivo di un'amministrazione non posso immaginare cos'altro possa essere, cioè far conoscere la bellezza del nostro paese. E concludiamo, ad Maiora e ad Meliora, Semper. Semper, infatti, noi ci lavoriamo, grazie. Angelo Miccoli, assessore all'ambiente del Comune di Statte, già sindaco, questa settima mostra di arte presepiale. Abbiamo visto che proprio è nel DNA degli statesi l'amore per la realizzazione del presepe. Ogni anno un'edizione che si arricchisce, si perfeziona con spunti nuovi. Quest'anno anche il rapporto, lo scambio culturale, gemellaggio, chiamiamolo come vogliamo, con Napoli. Sì, sono delle realtà importanti per il territorio, quelle relative all'associazionismo di qualità, che io ritengo sia di qualità, come l'associazione Vivere Betlemme, come tutte quelle associazioni che fanno crescere il territorio, perché l'amministrazione comunale sostiene queste attività, ma senza l'ausilio, senza l'apporto invece delle associazioni, che veramente in maniera gratuita, con passione, con determinazione, portano avanti quelle che sono le loro passioni, non si andrebbe da nessuna parte. Invece Statte sta dimostrando di avere veramente delle persone eccellenti che stanno portando il nome di questo paese fuori dalle mura del territorio. Siamo stati a Napoli, come dicevo, a Roma col Papa. Incontro col Papa. L'ho vissuta insieme al sindaco, ed è stato bello vedere che tra i cento e oltre presepi più belli del mondo spiccava quello di Statte. Addirittura il Papa si è soffermato per capire proprio le tecniche di realizzazione del presepe di Statte. Penso che si sia raggiunto il punto massimo dell'apprezzamento. Penso che oltre non si possa andare. Il paradiso solo. Mi sembra ovvio. E comunque questo sta a dimostrare, e il fatto si commenta da sé, che appunto questa importante realtà deve essere sostenuta, deve continuare, deve diventare tradizione per questa comunità. C'è il presepe dell'Arci che già da 24 anni, l'anno prossimo va a 25 anni dalla sua realizzazione. C'è la settima edizione dei presepi di Viver e Betlemme. Continueremo facendo diventare Statte la città dei presepi. E prosegue il nostro tour attraverso appunto i presepi stattesi. Siamo a Largo Lepanto in una casa grotta, davvero una grotta perché si scende, era all'epoca una grotta. E anche qui l'esposizione suggestiva di questi presepi. Sindaco, davvero una ricchezza espositiva, una varietà di generi. La bellezza del nostro paese è questa. I miei concittadini hanno messo a disposizione anche questa grotta e dico questa è una cosa bellissima e hanno ripulito questa grotta che da anni esiste qua. Noi non possiamo essere che entusiasti di quello che stiamo facendo, grazie sempre alla collaborazione dei nostri concittadini. Hanno fatto qui un'altra esposizione di presepi che sono di creatura tutta artigianale, bellissima, a ridosso della chiesa madre e quindi uno va in chiesa e poi passa a visitare i presepi. È una particolarità che il 24 notte dalla chiesa sono venuti qua a mettere il bambino Gesù che vediamo esposto lì. Io veramente sono, come dire, grato ma sono anche emozionato a vedere queste cose. La cittadinanza che si riavvicina alle istituzioni, si riavvicina all'amministrazione e dà il proprio contributo. Ma la cosa che non è, è fatto spontaneamente, è fatto con volontà, questa è una cosa che non può che fare. Con fede, tradizione e spirito civico anche. Questa è la cosa bellissima, la spontaneità, la volontarietà dei cittadini che si vogliono riappropriare delle vecchie tradizioni. Questo non può che farmi piacere. Sergio Moscaggiuri, in quest'altra postazione si avverte qualcosa di particolare, questa grotta che ha il suo fascino. Certo, perché si avverte qualcosa di già vissuto, intensamente vissuto. Il problema di questo locale era entrarci, farci entrare dei presepi, perché l'ingresso è piccolino. Quindi ci siamo, tra virgolette, accontentati di mettere delle opere piccoline, perché il presepe è la grotta. Il presepe in questo caso è la casa grotta. Il contenitore. Il contenitore. Come ha detto il sindaco, la sera del 24, subito dopo la messa, è stato portato in processione il bambinello ed è stato riposto all'interno di una vera mangiatoia. Quella che era davvero la mangiatoia, perché in questa stanza, in questo locale... Era una stalla in Buonasostra. No, era casa stalla, era una casa grotta. Dietro ci vivevano le persone, davanti ci stava l'asinello e quella era la sua mangiatoia. Moscaggiuri, commentiamo un po' questi presepi. Sono presepi realizzati con tecniche diverse, questi sono i classici panorama. Qui c'è il primo, sembra un borgo, è un borgo sgarrupato di una località inventata dall'artista. Fortuna. Fortuna. Fantasia. Fantasia. Vediamo un'altra rappresentazione molto elegante. Sì, nella teca abbiamo una natività stile palestinese con statue fatte a mano, in questo caso da Pino Damasi. Sono state realizzate completamente dall'artista. Anche in una brocca di creta consumata. Anche in una brocca di creta consumata, sì, è stato posto all'interno, i soggetti della natività, è subito dopo a seguire all'interno di un tempio. Quindi presepi in tutte le maniere, in tutte le tipologie, le natività sono state poste in tutte le tipologie possibili di scenari. Immediatamente a destra abbiamo due dipinti, il buo e l'asinello, che spesso inseriamo all'interno delle nostre mostre, perché ci piace vedere questi due animali che hanno fatto da contorno alla nascita di Gesù. Ed in questo caso sono due quadri dipinti da Alma Belcorra, un artista a tutto tondo, nel senso che lavora anche la pietra, dipinge su tela, sul legno, è un artista di... Quest'altro presepe che è davvero una chicca con del verde, degli alberi che appunto dominano la realizzazione. Anche quello è un piccolo presepe, è stato progettato per essere contenuto all'interno di un bracere in ottone che quest'anno non ha avuto l'onore di ospitarlo perché è stato acceso in altri locali. Ecco, e poi un'altra peculiarità, un presepe realizzato tutto in pasta. Sì, sì, la peculiarità di questo presepe è la sua realizzazione in pasta, completamente in pasta, con vari tipi di pasta. Abbiamo visto anche a Roma una tipologia simile. Sì, è vero, anche a Roma abbiamo visto, pare sia molto frequente la realizzazione del presepe in pasta. In questo caso non posso, non so commentartelo perché non conosco l'artista. Anche un'altra cosa che ci piace tanto è vedere che artisti che magari non conosciamo ci chiedono di esporre le loro opere all'interno delle nostre musee. E per concludere, un'altra rappresentazione che ha proprio la dimensione del presepe con le sue caratteristiche, diciamo, orientaleggianti. Sì, anche questo è un presepe palestinese posto all'interno di una campana di vetro. Anche in questo caso Pino Damasi si è divertito, lavorando in miniatura, con soggetti in miniatura, si è divertito ad incidere il gesso apposto sopra dei pezzi di polistirulo. Il presepe dell'Arci di Statte è ormai una istituzione. Siamo arrivati infatti alla ventiquattresima edizione e ho al mio fianco il suo creatore, il padre di questo presepe, che appunto ha realizzato per ben 23 anni, per ben 23 edizioni. Parliamo appunto di Mimino Marzii. E allora, illustriamo proprio in presa diretta questo presepe, devo dire molto esteso, e questi alberi mi danno proprio, conferiscono una dimensione vera, naturale. Il presepe misura 2 metri per 7 metri e mezzo, le statuine sono da 18 centimetri, in scala 1 a 10 come proporzioni. Gli alberi che dicevi sono, i tronchi sono dei ceppi di vite e sopra ci sta un cespuglio classico della nostra macchia mediterranea, niente di particolare, diciamo. Il presepe è fatto, i materiali per fare questo presepe sono gesso, polistirolo, sabbia, sabbione, argilla espansa, ce n'è di tutto. Per far capire l'immane lavoro che è stato fatto per realizzare questo presepe, per faccio soltanto presente sono stati consumati 200 kg di gesso, ed è tutto dire. Logicamente è un presepe che da solo non potrei assolutamente realizzarlo, mi sono avvalso di amici dell'Arci e i nostri... Sono 23 anni che lo realizzi. Questa è la 24esima edizione veramente, perché la prima edizione è stata realizzata dal maestro Rossano di Statte, noto presepista, e poi mi sono avvicinato io, diciamo che dal 91 è stato il primo anno che l'ho realizzato, qualche anno è saltato per motivi familiari. Ogni volta però poi buttarlo a terra, diciamo, è un dolore, no? Mi ha preceduto. Per poi ricostruirlo, realizzarlo di nuovo. La storia drammatica che fa male è quella che il 7 gennaio questo presepe verrà distrutto, come tutti gli altri 23. È un dolore, mi creda. Io onestamente mi assento, quando lo rompono io mi assento, perché non ho il coraggio di assistere alla distrusione. È una sua creatura. Noto con piacere anche il ruscello. Ecco, vedete, il ruscello. Di novità, a prescindere dal ruscello, perché un movimento di acqua lo devi sempre mettere in un presepe di questo genere, perché è in stile popolare. A parte il ruscello ci sta anche la fontana, che molta gente la interpreta come la fontana vecchia distante. Però diciamo, uno può interpretarla, può interpretare come vuoli, diciamo. Ecco qui, ce la sta con la massa, la donna intenta a lavare i panni. La novità di quest'anno è un'altra invece. Siccome questo è un presepe popolare, io ci ho inserito come natività San Giuseppe e la Madonna che sono in stile popolare. Sì, 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 vediamo. Eh sì, una dimensione... No, non è la classica natività... San Giuseppe sta con la giacca. Brava, è la Madonna, diciamo, viene interpretata dalla signora con il bambinello in braccio. È giusto, una nuova dimensione. Il discorso è quel che è molto accente e poi mi chiede spiegazioni, no? Dici che è sbagliato. Invece, gli altri anni potrebbe essere sbagliato, perché la natività degli altri anni era orientale, cioè il classico San Giuseppe con il bastone, con le vestite a lungo, e la Madonna altrettanto. Diciamo che questo si impersuna fedelmente l'ambiente in cui ho realizzato il presepe. Davvero complimenti e io immagino che dopo un breve periodo di sosta già il buon Mimino Marzì si ingegnerà per realizzare la sua 24esima, nonché 25esima per l'Arci edizione del presepe. Di nuovo tanti auguri e complimenti. Grazie a voi, grazie. Bene, completiamo questa visita guidata con Sergio Moscaggiuri, qui e lì, per le varie postazioni, tutte incentrate, diciamo, in largo le pantoe d'intorni. Quest'ultima presenta due manufatti. Sì, possiamo ammirare un diorama di medie dimensioni realizzato da Sergio Marcellini che ritrae la natività in stile palestinese e immediatamente sulla destra invece un presepe panorama, un panorama realizzato interamente in pietra e gesso da Pappone Gaetano, che è un amico dell'associazione. Abbiamo voluto spegnere le luci per far sì che appunto questo diorama esprimesse davvero la sua profondità, la sua ricchezza proprio. Ecco, guardate, abbiamo voluto fare questo gioco di luci. Quindi certamente i colori, le sfumature diventano sempre più suggestive e significative. Il diorama va realizzato, va visto con la sua luce. Quando si progetta un diorama si progetta anche la fase della giornata nella quale si vuole rappresentare la natività ed in questo caso è stata rappresentata, è stata immaginata un'alba e quindi deve essere visto solo con la sua luce per goderne in tutte le sue sfumature. Bene, e allora noi ci fermiamo qui per questa parte di Polifemo e come dire con questa immagine di profondità che ci fa pensare all'infinito tra un anno, se Dio lo vorrà, ci rivedremo con Statte, sempre protagonista, con l'associazione Vivere Betlemme e con altre realtà appunto del territorio, con il supporto amministrativo appunto della giunta guidata dal sindaco Franco Andriuli che abbiamo poc'anzi intervistato. Grazie a tutti.